Amministrazioni tra ballanti e dove trovarle. Sotto i riflettori nelle ultime ore è quella di Cassino, Ponte Corvo ed Anagni. Ore decisive per il sindaco d'Alessandro che alle 18 di oggi ha convocato un vertice dal quale verranno fuori le sorti della sua amministrazione. Ci sarà lo strappo decisivo o riuscirà ad incollare i cocci. Balla anche l'amministrazione di Anagni dove l'assessore Pace questa mattina ha rassegnato le proprie dimissioni. Il passo indietro dell'ormai ex esponente dell'esecutivo nasce dalla vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto. Un caso che nasce nella scorsa campagna elettorale quando un'operatrice degli scuola Bus denunciò Pace perché secondo lei l'allora candidato le chiese di presentarsi nella sua lista minacciando in caso di rifiuto di farle perdere il lavoro. La donna denunciò tutti i carabinieri da dicembre e è arrivato un decreto penale di condanna contro il quale ha fatto ricorso per avere un giudizio del tribunale. Ora sarà il processo a chiarire come sono andati realmente i fatti ma la vicenda ha generato conseguenze politiche per la nuova giunta Natalia. Questa mattina Pace come anticipato ha rassegnato le dimissioni spiegando le ragioni ed attendendo con fiducia il processo. Cocci che si rompono anche a Ponte Corvo, territorio dell'onorevole Francesca Gerardi della Lega che è ufficialmente passata in minoranza. Duro l'affondo del sindaco Rotondo ha tradito il patto con la città. Prendiamo atto della presa di posizione del consigliere comunale onorevole della Lega Francesca Gerardi la quale è passata in minoranza. Ne prendiamo atto ma per noi i componenti dell'amministrazione comunale non è certo un fatto nuovo. Così il sindaco forzista di Ponte Corvo. Francesca Gerardi dal 4 marzo 2018 da quando è stata eletta in Parlamento ha assunto atteggiamenti e posizioni che erano lontani anni luce dall'amministrazione comunale da quel patto che nel 2015 abbiamo sottoscritto con la città. Ricorda Rotondo. Noi quel patto lo continuiamo a portare avanti. Lei, ora che è in Parlamento, lo ha disatteso. Cosa avrebbe fatto se non fosse stata eletta in Parlamento? È quello che si chiedono moltissimi cittadini in queste ore. Prendiamo atto di una decisione politica dell'onorevole della Lega la quale rispondendo a quelle che sono le richieste del suo partito decide di abbandonare un'amministrazione comunale che l'ha portata a sedere nel consiglio comunale prima e solo poi in Parlamento. L'onorevole Gerardi ha solo risposto da buon soldatino a quelli che sono gli ordini dettati dall'uomo solo al comando. Non si è fatta attendere la secca replica della leghista. Il sindaco Rotondo è stato sbugiardato dai fatti. Non ammetterà mai il suo fallimento. L'onorevole sottolinea come sia stata attaccata personalmente e precisa. Non condivido questo modo di fare politica che attacca la vita personale. Non tradisco l'elettorato, ha spiegato l'onorevole. Siedo tra i banchi della minoranza.